Il titolo di mostro è Toccare il tempo. Difficile di toccare quello che non si vede. Il tempo è difficile, anche l'amore è difficile. Quello che non ha forma è difficile di toccare. Io ho pensato di, toccando la mia scrittura, immaginare quello che non si può toccare. Così ognuno può immaginare la sua forma, il suo desiderio. La mia scrittura è la mia scrittura, immaginare quello che non si vede. La mia scrittura è la mia scrittura, immaginare quello che non si vede. So che è difficile avere solo immaginare. Però sto cercando di, toccando il marmo in una forma, avere qualcosa da toccare il cuore di vostro. La mia scrittura è la mia scrittura. La mia scrittura è la mia scrittura. La mia scrittura è la mia scrittura.